Per intuire l'importanza del lavarsi le mani fu un medico sconosciuto ai più lungherese, Semmelweis era il 1846, suggerì ai colleghi di farlo prima di entrare in sala parto, in due anni portò la mortalità dal 18 all'1%, in cambio ottenne la derisione, la povertà, la morte in un ospedale psichiatrico, oggi e non solo, è appena giusto ricordarlo.